Siamo donne amanti della montagna, se volete unirvi a noi seguiteci sui social e iscrivetevi. Ciao a tutti 19 novembre siamo sopra ad Arpuy, la frazione si chiama Limblanc, la nostra destinazione è andare ai laghi Vernet. Oggi siamo in quattro, Cesarina, Livia e Monica. Ciao a tutti, ci aggiorniamo più tardi. Ciao 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 Allora dopo circa un'oretta siamo arrivate a Chacotei, intanto qua si vede tutta la valle centrale, l'Emilius, qua abbiamo di fronte la Grivola con il grano Menon e qua appunto questa questo alla fine questo rudere perché c'è solo questo con una roulotte Cesarina che scruta all'interno e adesso noi proseguiamo questo sentiero sempre il nostro 1A che appunto ci porterà ai laghi del Vernet. Siamo così arrivate ai laghetti del Vernet, qua c'è il primo e sono proprio due laghetti mignon mignon però insomma con la neve è molto carino. Mentre invece questo è il primo, proprio quello che si incontra salendo, qua avete il sentiero che porta al rifugio Chaligne e qua dietro c'è l'altro ma non stiamo a farvelo vedere perché è proprio più ormai una palude quindi insomma non merita così di essere. La sua invece c'è Punta Metz e appena dietro che non si vede poi c'è Punta Chaligne. Bosco ancora con dei bei colori, poi con questo contrasto con la neve e i colori ancora dell'autunno è molto bello. Adesso noi invece prendiamo il sentiero 6B per continuare il nostro circolare di oggi. Abbiamo appena fatto quasi 1200 metri di nuovo dislivello in discesa però adesso abbiamo appena passato Pond... come si chiama Cesarina? Pond Aviso. Pond Aviso e adesso agganciamo abbiamo già agganciato il voilà il Camino Balteo che è contrassegnato da questo triangolo col numero 3 quindi adesso ci dovremo rifare il dislivello in salita di circa 600 metri perché la macchina mi sembra che è intorno ai 1250 però molto 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 bello come giro però adesso ci è piaciuto tanto adesso dobbiamo solo arrivare alla macchina quindi ci riaggiorniamo dopo. la visuale sua osta. Allora abbiamo lasciato il Camino Balteo quindi il 3 e abbiamo preso il 5B un bel muro che abbiamo appena passato Serrano adesso dobbiamo incrociare il numero 4 che ci porterà poi all'embilan dove abbiamo la macchina però guardate che bello la panoramica da qua. bellissima becca di nona col monte miglius e tutta la conca di aosta bellissimo eccoci di rientro abbiamo terminato anche oggi abbiamo fatto 1200 metri dislivello poco più di quattro ore e abbiamo fatto un 13 chilometri e 4 faccio fare un giro di saluti ciao ciao a tutti e al solito seguiteci sui nostri social alla prossima alla prossima ciao 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 ciao